Buongiorno, buon venerdì. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Mattino 6. Iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Sul centro, nella prima pagina della edizione pescarese, il titolo di apertura è Mense scolastiche, servizio a rischio. Pescara alla CIR non molla, i genitori minacciano di bloccare le iscrizioni. Ma la notizia di giornata è stata quella delle dimissioni di D'Alfonso. D'Alfonso addia alla Regione, Abruzzo il senatore si dimette da governatore. Farò il falename del centro-sinistra, queste le sue parole nella conferenza stampa, in cui ha tracciato un bilancio dei 50 mesi alla guida della Regione. Chiaramente ci sono stati anche i commenti, le opposizioni, 5 Stelle e Forza Italia sono stati quattro anni persi. Dunque una bocciatura senza se e senza ma della legislatura di D'Alfonso. Poi bloccata la legge, doccia fredda per le guardie mediche, stoppa l'indenità e l'altra notizia di politica. Per l'economia invece vola l'ex Porta Abruzzese, più 10% nel 2017. Scendiamo adesso nello spazio delle cronache. E di Popoli, stalker, tampona la ex con l'auto e viene arrestato. Controllava tutti gli spostamenti della sua ex compagna. L'uomo, un agente di commercio di 44 anni di Popoli, è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori nei confronti della sua ex. La vittima è una giovane residente a Francavilla. Da Pescara il cinema Michetti. Dopo un anno ripartono i lavori. Il teatro tornerà agli antichi splendori entro il 2020. Prima della fine dell'anno ripartiranno i lavori di ristrutturazione dello storico edificio intitolato all'allora proprietario Vicentino Michetti. I lavori che sono fermi all'incirca da un anno. A centropagina nella fotografia lutto in città per la scomparsa di Viola. Pescara Vecchia, piangeremo. Fondo l'Osteria numero 1000. Andiamo adesso nel taglio basso il calcio d'estate. Cocco entra e sveglia il Pescara. Avvio Scialbo, poi la tripletta della punta. 4-0 è finita la partita a Giulianova. E poi Francavilla e la grande notte di Gianna Nannini con il concerto che ci sarà questa sera a Francavilla nell'ambito del cartellone delle manifestazioni estive. Andiamo avanti sempre con il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere l'apertura della edizione teatina. muore per la puntura di un'ape. Vasto tragedia in casa. La vittima ha 70 anni. Il decesso è avvenuto in pochi minuti per lo shock anafilattico. Nel taglio alto ancora tutto il comparto dedicato alla politica con le dimissioni di D'Alfonso. Ma noi andiamo a vedere lo spazio delle cronache. A vasto stupro di gruppo arrestati altri 4 minori. Prestazioni sessuali e ricatti. Il cerchio si è chiuso dopo due mesi di indagini. I carabinieri di Vasto hanno identificato altri 4 giovani che insieme al fidanzatino di una minorenne hanno ricattato per due anni la ragazza che ora ha 16 anni. Andiamo avanti. Chieti, strade distrutte. Via ai lavori da 40 milioni. Arriveranno i soldi per le strade provinciali distrutte. Entro il 2022 la provincia promette che metterà in campo oltre 40 milioni di euro per i lavori nel Chietino. Sono 17 gli interventi più urgenti che partiranno già da subito. A centro pagina la polemica per i fondi negati a Chieti. Non solo. Il governo ferma le grandi opere. Di primio va avanti. Chiaramente ci si riferisce alle polemiche per il blocco dei fondi destinati alle periferie su cui in queste ore si sta agitando la polemica politica. Nel taglio basso, domenica la sfida tra 20 ragazze. Miss Italia ha fatto a pacchieti la finale regionale del concorso sbarca in corso maruccino. Sempre sul Quotidiano Il Centro cambiamo edizione. Andiamo a vedere la prima dell'edizione terramana. In apertura resort degli arabi partono i lavori. Colonnella e i magnati di Dubai avvieranno il cantiere in autunno. Poi andiamo nelle cronache. Il porta a porta sparirà solo nelle case sparse. Per quanto riguarda Teramo è l'indirizzo che l'amministrazione d'Alberto darà alla Teramo Ambiente per rimodulare il servizio e renderlo più economico. Nelle vere e proprie frazioni il sistema attuale dovrebbe restare in vigore. E poi Tortoreto, banda di bulli, rapine e picchia. Una turista a 15 anni nell'episodio sul quale indaga la municipale. Avvenuto sul lungomare nella notte del carnevale. I ragazzini hanno accerchiato il coetaneo costringendolo a dar loro i pochi euro che aveva e l'hanno colpito con una testata. Ancora Porchetta, niente concorrenza tra Colledara e Campi e il titolo sulla fotografia sagre organizzate in due settimane diverse nel Teramano per questo prodotto tipico della enogastronomia abruzzese e anche della provincia di Teramo ovviamente. Nel taglio basso si torna sull'amichevole Alfadini, Giulianova. Un test d'applausi giallorossi resistono un tempo al Pescara. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del centro. In apertura c'è lo sport. Palla ovale sgonfiata, città delusa. L'Aquila, il passaggio della club all'Unione, fa discutere e non è indolore. E poi ancora nelle cronache Avezzano, rivoluzione dei parcheggi in centro. Scatta la rivoluzione nei parcheggi nel centro di Avezzano. In via Marconi, il corso della libertà, entrambe attraversate dalla pista ciclabile. In fase di realizzazione si potrà sostare gratis, seppur a tempo, cioè 90 minuti, per favorire chiaramente il ricambio delle auto. E poi Sulmona, prende a testate la convivente e finisce in cella. Accecato dalla gelosia perché non voleva più saperne di lui, massacra di botte la convivente, minacciandola di morte con un'ascia. Ieri mattina Pietro Del Cimmuto, operaio Magneti Marelli di 52 anni, è stato arrestato dalla polizia. E poi a centro pagina il Parco del Sole, le prime spine, attrezzi montati male, area fitness nuova, già inservibile. Andiamo nel taglio basso, sul mono ordinanza del sindaco, paura, incendi, grigliate, vietate, fuoco bandito dopo i roghi che ricorderete un anno fa hanno distrutto il Monte Morrone. Adesso ci spostiamo sulla prima pagina del messaggero in certo Abruzzo. Il titolo di apertura del giornale d'Alfonso, ora le primarie. Il presidente dopo le dimissioni al voto a dicembre o gennaio tra tre civiche nel centro-sinistra. Legnini, una risorsa nazionale, tanti risultati raggiunti. Non temo le inchieste giudiziarie, questo è un po' il riassunto delle varie dichiarazioni rese da Alfonso nel corso della conferenza stampa di ieri. E poi i bussi, ecco i piani per le discariche dei veleni, con la bonifica che finalmente è stata varata e partiranno esultato le associazioni ambientaliste che negli anni si sono battute per questo risultato. Andiamo a centro pagina adesso, preso attestate dai ragazzini per pochi euro, tortereta la vittima è un romano in vacanza, ancora non c'è denuncia, indaga la polizia locale. E poi ancora, vasto, la minore ricattata dal fidanzatino con un video hard, baby gang stupra e filma una 14enne. Altri quattro arresti dopo i due di giugno per le violenze sessuali su una ragazzina di 14 anni di vasto, la minore era costretta a subire gli abusi dopo essere stata ricattata. Andiamo a vedere adesso di spalla, si torna sul caso guardie mediche, il governo impugna la legge sugli arretrati, l'assessore Paolucci dice, norma voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle abruzzese, dunque c'è questa critica su questo doppio binario, secondo il Partito Democratico ovviamente, tra il 5 Stelle abruzzese e il governo romano. Poi nel taglio basso, vasto, punto da un ape, muore in casa per shock anafilattico, Giovanni D'Adamo, 72 anni, è morto poco dopo essere stato punto dall'insetto. Andiamo nel taglio alto adesso per le altre notizie, il Clou dell'estate, Arise in concerto e Notte Americana, via la Maratona verso Ferragosto, poi il rugby, l'Aquila scomparsa, la delusione, adesso bisogna sostenere l'unione per la Serie B, Pescara sempre più nel segno di Cocco Gol, l'attaccante che doveva essere ceduto, protagonista anche con il Real Giulianova, Melegoni si presenta all'Adriatico, mi manda Gasperini, sono qui per sfondare questo per quanto riguarda il calcio. Adesso ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, per vedere anche questa prima pagina, in apertura, muore tra le braccia della moglie, impresario funebre di 32 anni, stroncato da un infarto fulminante nella sua casa a Tortoreto, è questo il titolo di cronaca che apre il giornale, poi a centro pagina, incompatibilità, aspettando il voto, la regione passa al vice Lolli, D'Alfonso se ne va il titolo sulla fotografia del Presidente della Giunta regionale. Nel taglio alto la mobilità, Martinsicuro avrà la stazione ferroviaria, poi l'ente porto, Alessiani ha assunto un mese fa senza delibera, Giulianova ha il razzismo, il Sindaco prova a mettere la pezza. Andiamo a vedere gli articoli di spalla, a Teramo il bando per le periferie sta provocando polemiche, così come a Pescarecchieti, anche il PD ha votato contro Teramo. E poi ancora il commercio, ecco la lista dei problemi. Andiamo a vedere le altre notizie. Teramo tra Comune e Team c'è da costruire un nuovo ponte e poi Civitella del Tronto ha processo per gli abusi sulla minore disabile. Nel taglio basso gli eventi a tutta porchetta, si parte con Colledara, poi la Sagra di Campli e per quanto riguarda il Teramo, tra i pali, la Sicurezza e Lewandowski. Questo per quanto riguarda le prime pagine abruzzesi. Adesso andiamo a vedere invece i titoli dei principali quotidiani italiani e partiamo dal Corriere della Sera. In apertura il fisco IVA e gli 80 euro governo diviso, l'argine del ministro Tria, Di Maio e Salvini incalzano, intanto è scontro sui vaccini. Questo per quanto riguarda le ipotesi che in queste ore stanno circolando riguardo la manovra finanziaria che ovviamente si sta preparando. E poi ancora per quanto riguarda il commento questa mattina firmato da Daniele Manca, la rotta incerta e il titolo che riguarda proprio la legge di bilancio e la riflessione su quanto sta accadendo nel governo. Andiamo a vedere poi gli europei di nuoto, risultato azzurro, il migliore di sempre. Qui vedete le foto degli azzurri con le medaglie. Nuoto da sogno, 22 le medaglie per l'Italia del nuoto, 6 d'oro, 5 d'argento e 11 di bronzo. Un record, ma l'Italia del nuoto era riuscita a salire così tante volte sul podio come ha fatto agli europei di Glasgow. Chiaramente la copertina è quella di Simona Quadarella, a 19 anni che ha vinto la gara e ha vinto 3 ori agli europei di Glasgow. E poi di spalla, storie e volti, voto incidenti in piazza. Nell'Argentina di Francesco, chiaramente di Papa Francesco, l'aborto resta vietato. Questo è l'approfondimento che propone il Corriere della Sera. Andiamo sulla Repubblica. Il titolo di apertura sotto attacco ai ministri Pro Colle, deficit PIL, l'azzardo del governo. Il piano, portare il rapporto all'1,7% per far partire il programma. Lega e Movimento 5 Stelle contro Tria e Moabero, che appunto sarebbero i due ministri Pro Colle e Pro Mattarella. I commenti, la nuova sfida all'Europa, nell'articolo di Claudio Tito, un'autonomia da difendere e il pezzo di Stefano Folli. Andiamo anche qui a centropagina con gli europei di nuoto. L'acqua è dolce per gli azzurri, quadarella al terzo oro per questa impresa storica dell'Italia del nuoto. Nel taglio basso, la guerra dimenticata, l'Arabia Saudita bombarda in Iemene stragi di ragazzini, ancora tensione con il Canada. E poi il referendum nel verbano Cusio-Ossola, la contesa del Lago Maggiore, così un'intera provincia sceglierà fra Torino e Milano. Ora la stampa, il titolo di apertura, vaccini, manovre, grandi opere, scintille fra i ministri di Lega e 5 Stelle, Salvini e Di Maio, in pressing su Tria per bloccare l'aumento del live e l'abolizione degli 80 euro che vennero introdotti, lo ricorderete dal governo Renzi. Bussetti frena la grillo sulle regole per gli alunni, per quanto riguarda invece i vaccini, e Siri smentisce Toninelli sull'alta velocità. Conflitti nella maggioranza, l'opposizione che nasce dentro casa e la riflessione che propone Francesco Bei. Anche qui a centropagina, questa bella fotografia degli azzurri del nuoto, tris storico di Quadarella, gli europei, l'Italia nuota nell'oro. Andiamo adesso sul Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, lobby contro in 70 giorni, Conte e Cosi sono inimicati un bel po' di poteri, il partito degli affari fa guerra, il governo sui precari appalti. Questa è la lettura, diciamo, di quanto sta accadendo del Fatto Quotidiano, che è il giornale che è più vicino, soprattutto alle posizioni del Movimento 5 Stelle. La frenata sulle grandi opere, TAV in particolare e i limiti ai contratti a termine, hanno compattato un frontostile che va dalla Confindustria al Corriere della Sera alla CGL, ma ci sono due alleati imprevisti sul debito, Trump e la Cina. Poi ancora, conflitti di interesse, la richiesta in CDA Carige deve 55 milioni, ma chiede lo sconto a 1. Questo per quanto riguarda le banche, andiamo invece nel taglio alto, i vaccini, la legge Grillo, l'obbligo parte dal 2019, il testo per ora autocertificazione, come con la Lorenzina, anche se ci sono delle perplessità sul fatto che queste autocertificazioni possano valere perplessità avanzate dai pediatri. E poi Renzi, cognato indagato, la famiglia è al completo, dopo padre e madre, riciclaggio di 6 milioni Unicef. Andiamo sul manifesto adesso, il titolo di apertura tradizionale sulla fotografia, i ragazzi con la pistola. Andiamo a vedere perché. Fermati i giovani che il 2 di agosto hanno ferito a colpi di pistola un migrante gambiano a Pistoia, gridando sporco negro bastardo, sono due tredicenni che si sono giustificati parlando di una goliardia. E poi nel taglio alto, manovra ad autunno, il cavallo di Tria, il ministro cerca coperture per flat tax e reddito, Movimento 5 Stelle e Lega, il bonus di 80 euro. Non si tocca questa la rassicurazione. Andiamo avanti sul sole 24 ore, il principale quotidiano economico e finanziario italiano, in apertura crack bancari, il governo cerca 400 milioni per gli azionisti. Credito e regole, l'obiettivo è ampliare il raggio di azione del fondo salva risparmiatore, azione in due fasi, sistema di indennizi, poi modifiche con il mille proroghe, il passaggio più delicato, l'estensione dei rimborsi anche agli azionisti. A centro pagina, in questa fotografia di una mazzetta di banconote, valutario, le sanzioni USA fossano la lira turca, piano per tre, aliquote, IRPEF e IVA flessibile, poi è il titolo invece sulla manovra, dunque il cantiere manovra, lo definisce il sole, i nuovi scaglioni inglobano il taglio delle agevolazioni del bonus degli 80 euro, imposta al 15-25% fino a 28 mila euro, al 26-35% tra 28 e 75 mila euro, oltre al 43%, il caso 80 euro, sollevato proprio dall'intervista dal ministro Tria realizzata dal sole 24 ore. Andiamo adesso sul messaggero, il titolo di apertura del quotidiano romano, IVA 80 euro, tensione su Tria, sull'aumento dell'aliquote bonus 5 stelle, Lega frenano il titolare del MEF, ma sono divisi, far del quirinale sui conti, caccia le risorse per la manovra, spesa sociale, sussidi nel mirino. E poi i vaccini, blef autocertificazione, scrive Carlo Nordio, la nostra salute messa a rischio dalle ambiguità della politica. La battaglia sull'obbligo a scuola, vaccini, la sfida dei ministri sui presidi, Grillo sbagliano, bussetti, ascoltateli, e poi Ruffini di rettore oscente, già fatto tanto, fisco, l'obiettivo sono i grandi evasori, la priorità del nuovo capo delle entrate. Andiamo adesso a centro pagina, nuoto, quadarella, tre volte oro, vincono anche Pansiera e Codia, la tripletta di Simona, Orgoglio di Roma, e poi Beffa Campidoglio, premie dirigenti per avviare di appalti, il titolo che invece riguarda la capitale d'Italia. Andiamo sul tempo, restando sempre ai giornali romani, il titolo di apertura, addio ai fogli di casta. Montecitorio taglia la carta, stampare emendamenti e atti, costa 5 milioni, pronta la rivoluzione, nelle commissioni solo documenti. in formato digitale. E poi, conto una sorpresa al governo, la rivincita del premier, che non c'era. Andiamo avanti su avvenire il titolo di apertura del quotidiano cattolico, stragi di innocenti. Naufragio di iracheni, nell'Egeo, sette bimbi annegati, bombe sullo scuolo a bussinghemen, uccisi 29 ragazzi, si ribalta un gommone, nella traversata fra Turchia e Grecia, un raid della coalizione saudita, fa 47 vittime, l'operazione viene definita legittima. e poi il titolo sull'economia, su IVA, 80 euro, vaccini e TAV, il governo è diviso. Su Libero, il titolo di apertura, ciao Forza Italia, Silvio fonda un partito, per far rabbia a Salvini, Berlusconi se ne frega, dei ribelli azzurri, e progetto movimento centrista, collegato al PPE, obiettivo, cercare nuovi equilibri, per essere più competitivo, nei riguardi della Lega. Andiamo a vedere a centropagina, con la battaglia sui vaccini, sull'obbligo di vaccinarsi, le persone sensate, vogliono l'obbligo di vaccinarsi, bene, i presidi e i pediatri, mandano al diavolo la ministra della salute, questa è la posizione netta di Libero. La verità ora, Renzi lancia IPM contro il governo, ma sulla sua famiglia, ci sono 5 indagini, alle aziende dei genitori, i soldi sottratti, i bimbi africani, l'ultima coinvolge il cognato, accusato di essersi intascato fondi, destinati all'Unicef, e il giornale La Verità, scopre che l'ex premier, riceveva a Palazzo Chigi, l'imputato D'Agostino, che nelle intercettazioni, definiva vomitevole. E poi, a centropagina, Muti, le suona i vescovi, che brutta musica nelle chiese, così, uno dei più grandi direttori d'orchestra, viventi. E poi, scandalo Moschea Bologna, Salvini, cambio la legge, il sindaco concede agli islamici, lo sconto del 91% sull'affitto, la possibilità di fare ampliamenti, e il leghista si arrabbia. Sul secolo d'Italia, adesso, Movimento 5 Stelle, come Attila, la foto che vedete, del senatore Gasparri, di Forza Italia, che ha definito così il Movimento 5 Stelle. Poi, in primo piano, Argentina, no all'aborto e guerriglia femminista. Differenza Salvini-Minniti, i dati rendono giustizia. E poi, Capotreno, io disperata, l'ho fatto per passeggeri. Andiamo sul mattino di Napoli. Prima di passare ai titoli dei quotidiani sportivi nazionali, le inchieste del mattino, le grandi opere incompiute, costano 3 miliardi all'anno. In Italia, 647 maxi cantieri mai completati, il record della Sicilia. Negli ultimi 12 mesi, in Campania, sono passati da 26 a 41. Il caso della manovra, l'ite Movimento 5 Stelle, lega tutti contro i no, di Etria. E poi il focus, flat tax e pensioni, su misura per aziende e lavoratori del Nord. Andiamo a centropagina. Napoli, il video shock dell'anziano gettato in un cassonetto, l'aggressione dei bugli a fuori grotta, finisce sui social, branco in azione anche sulla metropolitana a Piscinola. E poi, le proteste dei tifosi, San Paolo, il caos dei cantieri nello stadio, ora il Napoli cancella, gli abbonamenti. E questa notizia ci introduce alle pagine di Sport. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In apertura, esclusiva intervista a Fabio Capello, Inter, Modric, il top, e tra i più forti del mondo, ma il Real farà muro, con Ronaldo, la Torna Grande, Higuain, il Milan. ora è serio, questo è un po' il commento di Capello al mercato. E poi, Luigi Garlando, scrive, Luca è la torta, non la ciliegina, per quanto riguarda l'Inter. E poi, la trattativa, il croato oggi, vede Perez, vuole giocare in nero azzurro, il marziano, soldi, clic, gol, la Juventus, è un mese insieme a CR7. Il rosso-nero, Silva-Siviglia, prestito con riscatto, a 38 milioni. Nel taglio alto, si rende omaggio al nuoto italiano, Super Simo, sei unica, pazzesca, Quadarella, un trist d'oro mai visto, in trionfo, Pansiera e Codia, 22 medaglie in totale, per gli europei, vissuti dall'Italia, la romana vince anche i 400, italiani pure, i 200 d'orso donne, e i 100 farfalla uomini. Nel taglio basso, la Serie B, a 19, la FIGC, verso il taglio, clamoroso dietro front, con l'appoggio del CONI, blocco dei ripescaggi, da Novara al Catania, sei club pronti ai ricorsi, le società iscritte al campionato, hanno sollecitato il provvedimento, ma adesso è caos. Per quanto riguarda il Parma, primo gollo in tribunale, tolti i 5 punti di penalizzazione, e l'Europa, Euro-Atalanta, è uno spettacolo, anche in Israele, playoff prenotato, Apoel battuto, 4 a 1. Andiamo sul Corriere dello Sport, anche qui in apertura, le trattative per Modric, Modric sparito, l'assenza del Croato dal profilo social, del Real Scatena, il finimondo tra i tifosi dell'Inter, Perez alla presentazione di Courtois, il Bernabeo, solo i migliori, ma Luca è nella lista dei 33 della Supercoppa, oggi il faccia a faccia con il presidente, Florentino Grissa, una foto ufficiale, fa impazzire gli interisti, che sognano il grande colpo di mercato. Nel taglio alto, è un calcio di pazzi, parla il presidente Ferrero, un'analisi spietata del momento della Serie A, per il presidente della Samp, la Lega, roba da scherzi a parte, pallotta, un miracolato, il migliore, il lotito, intelligenza superiore, ma ha il nemico in casa, così il presidente dei blucerchiati. Di spalla, Napoli non è più in campagna, storica decisione, il club di De Laurentiis cancela la raccolta degli abbonamenti, e poi Parma salvo, Palermo è una furia, per quanto riguarda invece la sentenza che ha salvato il Parma, garantendogli la serea. Andiamo su Tutto Sport, e completiamo così la lettura delle prime pagine, in apertura Milinkovic, Juve o Real, chiuso il mercato in Inghilterra, per il selbo restano in corso i bianconeri e gli spagnoli, una settimana di fuoco che può coinvolgere Marcello e Pjanic. Nel taglio alto, acqua azzurra, acqua d'oro, parafrasando la canzone di Battisti, per quanto riguarda invece gli europei di nuoto, e poi Fantastico Atalanta ha battuto l'Apoel ad Aifa, 4 ad 1. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, andiamo a vedere prima però le previsioni meteo per le prossime ore, poi torniamo con la seconda parte della rassegna. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie dalla nostra regione, con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi, doppia pagina per il centro in primo piano sulle dimissioni di D'Alfonso, l'addio alla regione, D'Alfonso, i miei 4 anni di successi e rimpianti, l'ex governatore, chi vincerà le elezioni non disperda il lavoro della mia giunta, tra poco andremo ad ascoltare le parole di D'Alfonso. Intanto Forza Italia e 5 Stelle, non mancherai agli abruzzesi, il commento della Marcozzi, le elezioni si vincono con i programmi, non con i voti, e il centrodestra si presenta in t-shirt, 4 anni persi e la fine di un incubo. Ieri appunto c'è stata anche la conferenza stampa di Forza Italia per fare un bilancio del lavoro fatto all'opposizione. Nel taglio basso, guardie mediche, il governo blocca la legge che salva le indenità, siamo convinti della bontà del nostro percorso, ci opporremo a questa decisione, dice l'assessore regionale alla sanità Paolucci. Nel taglio alto invece, Nuova Pescara, il 31 di agosto, l'assemblea con i sindaci, dopo il sì alla fusione con Montesilvano e Spoltore. Andiamo a vedere anche come viene trattata la notizia delle dimissioni di D'Alfonso sul messaggero e poi sulla città, il saluto del Presidente D'Alfonso dopo l'addio, adesso le primarie alle urne a dicembre o gennaio, Legnini una risorsa nazionale, il centrosinistra avrà tre civiche vittorie con il 30% dei voti. E ancora i forzisti con le magliette, ora vattene il Movimento 5 Stelle, fine del sequestro istituzionale. Andiamo anche a vedere la città, ecco qui la pagina Abruzzo, D'Alfonso protocolla le sue dimissioni, il titolo, la guida della regione, passa temporaneamente nelle mani del vice Giovanni Lolli in attesa delle nuove elezioni. Le critiche, sferzanti commenti di Forza Italia, che ha parlato di quattro anni persi dietro ai personalismi di un governo senza anima e Donato di Matteo, accusato D'Alfonso di essere stato a capo della peggiore legislatura della storia abruzzese. Il bilancio, domani un incontro con la stampa, durante, scusate, un incontro con la stampa, l'ormai ex governatore ha tracciato appunto il bilancio dei 50 mesi di governo. Andiamo a vedere proprio la conferenza stampa con Paolo Renzetti. Per me questa esperienza che si conclude, conclude anche un tratto della mia vita. Sala Filomena Delicastelli, della regione Pescara troppo piccola per l'ultima conferenza stampa da presidente della regione di Luciano D'Alfonso, che ha elencato gli obiettivi raggiunti in 50 mesi di legislatura. Partendo dal masterplan Abruzzo, D'Alfonso ha voluto opporre l'accento sui risultati ottenuti grazie all'assegnazione e stanziamento di risorse e fondi. Di sicuro continuo a lavorare per gli abruzzesi che mi hanno sempre consentito di trasformare le idee in fatti. Molte idee sono diventate fatti, per quelle che sono rimaste, diciamo, sul piano del progetto, continuerò a lavorare con la mia determinazione, senza mai dare posto e luogo alla paura. Un grande risultato, io ho determinato, che con la mia presenza e la mia attività decisionale la paura è stata tenuta fuori dalla porta. Anche quando l'attività amministrativa è stata giuridicizzata, mai mi sono inchinato alla paura. Questo dico agli abruzzesi che farò, per questo ringrazio gli abruzzesi, poiché la loro fiducia è stata la mia forza contro la paura. Non è mancata poi anche l'autocritica su quello che si poteva fare, non è stato fatto, come per le liste d'attesa, nella sanità. Siamo stati la prima regione ad uscire dal commissariamento, abbiamo innalzato la quantificazione della qualità dei nostri LEA ad un livello apprezzato da tutti, però c'è il tema delle liste d'attesa e quello è un punto, è una materia sulla quale dobbiamo studiare e organizzare nuovo prodotto e nuova organizzazione. Così come sono dispiaciuto, per esempio, di non avere potuto quantificare i metri quadrati di territorio libero attrezzato per insediare nuove imprese. Io avrei voluto quantificare tutte le aree libere, metro per metro, da mandare alle confindustria di Bruxelles, di Tokyo, di New York e fare in modo che chi conosce quelle aree poi possa decidere con tutte le convenienze dove investire, quando e quanto investire. Però quello che devo dire è che in questi 50 mesi abbiamo lavorato tanto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si poteva fare di più, sì, però devo anche dire che accetto il confronto con qualsiasi alta legislatura precedente. Infine D'Alfonso, sollecitato dai giornalisti, ha parlato delle prossime elezioni regionali e di quello che potrebbe essere l'identikit del candidato presidente del centro-sinistra, ovvero il vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini. Ma io penso ad un'età beta che ha capacità di fare coalizione, che è autorevole, che non ha nemici. Un'età beta che ha cultura di governo, che conosce il valore, la densità e la delicatezza della decisione pubblica. Una persona con una storia riconoscibile, una persona che per esempio sa il linguaggio della politica, il linguaggio dell'amministrazione ed il linguaggio delle istituzioni. Come si individua questa persona? Con le primarie? Come dice lo statuto del partito principale di una coalizione possibile di centro-sinistra? E come anche a me piace? Oppure si sceglie attraverso il conferimento di saggi di una comunità politica che prescindendo dalle primarie, per oggettività di merito, affida questo ruolo al migliore che ci può essere in Abruzzo, ma non solo dal punto di vista territoriale e regionale? Andiamo avanti con la lettura delle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Torniamo sul centro. Nella pagina Abruzzo Economia il report vola l'export abruzzese più 10% nel 2017. Ad affermarle uno studio delice, buoni segnali anche per il primo trimestre 2018 a Germania e Stati Uniti i mercati principali. Nel taglio basso, innovazione delle reti, l'Abruzzo a convegno e distribuzione regione e confindustria si confrontano su come rendere più competitivo il territorio. Andiamo avanti, apriamo la pagina di Pescara sempre sul centro. Mense scolastiche dopo le intessicazioni, cibo per i bambini, ora il servizio è a rischio. La CIR non molla, si temono azioni legali, i genitori allarmati, non iscriveremo i nostri figli se non cambierà il gestore. E poi l'unica alternativa saranno i pasti da casa. Claudio Cretarola del comitato Noi a Menza dice ci stiamo già organizzando la legge lo consente. Andiamo ad aprire la pagina di Pescara, la prima pagina di Pescara anche sul messaggero. In apertura a Ferragosto una vigilia lunga tre giorni dalla notte dello shopping di domani con lo show di Arisa fino al concertone dello Stato Sociale eventi a non finire nel programma del comune anche l'Holly Dance Festival e le esibizioni di Marco Armani e della pescarese Hanna. La grande festa di mezza estate preceduta da Iwana Bee americano e altri appuntamenti. E poi ancora nel taglio basso classici d'estate da sabato torna lo spoltore ensemble e poi qui la gioventù più bella l'omaggio di Dodi Battaglia. Completiamo sul messaggero la lettura delle pagine di Pescara Nuova Pescara all'area vasta è già realtà Alessandrini rivendica un ruolo di punta nella nascita del supercomune intese in atto per traffico e smog prudenti invece i sindaci di Montesilvano e Spoltore Maragno commenta la legge non ha risolto le criticità tra i favorevoli le principali categorie produttive da Francavilla Luciani spinge per l'inclusione poi dopo il via libera della regione parti sociali e politica le prese con scadenze e procedure nella pagina successiva i piani per le 5 discariche dei veleni cose fatte da fare dopo il via libera del Ministero dell'Ambiente alla rimozione di 112.000 m3 di rifiuti dall'area Tremonti per piano d'orta approvato il progetto parziale di bonifica lavori da assegnare per le zone 2A e 2B studi in corso sui terreni pubblici intanto esultano di ambientalisti per il via libera dopo 11 anni di attesa all'analisi dei passi ancora da compiere perché insomma la lotta almeno sul versante delle bombe ecologiche non è finita però noi possiamo andare a vedere insieme la conferenza stampa che c'è stata proprio ieri mattina davanti la sede di Prefettura e Comune di Pescara da parte degli ambientalisti proprio per commentare quanto riguarda la bonifica delle discariche di bussi vediamo con questi due decreti il Ministero ha approvato due progetti di bonifica di intervento quindi esecutivi che Edison dovrà attuare nelle prossime settimane e mesi ora questo è un aspetto fondamentale anche perché è passata la linea che i rifiuti devono essere eliminati dal sito cosa non scontata perché Edison in questi anni ha cercato di dire facciamoli rimanere lì facciamo altri tipi di interventi ecco invece è passata la linea dei movimenti anche di molti enti che si sono schierati per la rimozione completa dei rifiuti insomma gli enti si sono messi a lavorare negli ultimi due anni sostanzialmente in poco tempo stiamo raccogliendo molti frutti di questo lavoro come le ordinanze per esempio della provincia sulle discariche 2A2B e sulle aree esterne a Piano d'Orta che individuano i neti sono responsabili a contaminazione ecco questo passaggio adesso è fondamentale di farlo anche nell'area industriale perché senza il responsabile a contaminazione non c'è chi deve presentare i progetti come invece è già avvenuto per Tremonti e per l'ex Monte Canini in aria interna a Piano d'Orta quindi ecco c'è da rimanere soddisfatti intanto anche per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni abbiamo perseverato insistito molto in questi anni e i frutti si vedono quando c'è una lotta che continua anche dal basso andiamo avanti sempre sulle pagine di Pescara completiamo la lettura anche di quelle del centro alloggi a Fontanelle i lavori si fermano dopo una settimana riqualificazione delle case popolari in via caduti per servizio pettinari dei 5 stelle la regione non ha trasferito i fondi all'Ater e poi ancora lo stop al piano delle periferie Cuzzi fondi negati un danno era reale ma Antonelli attacca sugli edifici storici a Pescara Cinema Michetti riapre il cantiere avrà il palco estensibile 371 posti i lavori da un milione di euro possono ripartire dopo un anno il comune ha risolto il contenzioso dovrebbe essere pronto nel 2020 l'assessore sarà il teatro che la città aspetta da sempre ancora Arisa Stato sociale e Armani per un Ferragosto pieno di stelle abbiamo già visto in precedenza Enrico Menù di Ferragosto andiamo a Montesilvano la tragedia in via Vestina Marco gran lavoratore sempre con il sorriso De Fabritis imprenditore di 58 anni di Montesilvano lascia tre figlie gestiva con i familiari l'Internet Point in via Roma e un bar in via Emilia è morto per uno schianto in un incidente stradale e poi ancora via Vestina sotto accusa troppe auto come una statale il comandante della polizia locale Casale fa il punto sugli incidenti nella pagina successiva dalle bevande e costumi a Elice è tornato il Medioevo da martedì il borgo e invaso da centinaia di persone per la notte nell'Ilex tra spettacoli itineranti e botteghe il visitatore può anche noleggiare un costume d'epoca andiamo avanti a Francavilla al cimitero gli operai tornano a lavorare momenti di tensione tra dipendenti datore di lavoro stipendi pagati dopo l'intervento delle forze dell'ordine poi Nannini a Sant'Alfonso primi divieti dalle ore 16 per il concertone di questa sera nel taglio alto barca si ribalta salvati tre velisti intervento della nave Ermione dell'Arta a largo del fiume lento sempre a Francavilla taglio basso sempre a Francavilla scatto un divieto di bagnazione bagni vietati nel tratto di fronte alla stazione e a Cepagatti notte di San Lorenzo al Castello nella pagina successiva quella della Val Pescara via i rifiuti da bussi momento storico di scarica dei veleni il movimento dell'acqua dopo il decreto aspettavamo questo passo da anni il sottosegretario Vacca mantenuti di impegni abbiamo visto in precedenza la conferenza stampa e poi tampona la ex con l'auto stalker arrestato finisce domiciliare un 44enne di popoli si era trasferita a Francavilla per pedinare la donna pagina successiva è quella di Chieti e dunque cambiamo provincia prestazioni sessuali ricatti stupro di gruppo altri 4 arresti svolta nelle indagini sulle violenze su una 14enne sfociate a giugno scorso in due fermi i ragazzi tutti i minorenni sono ai domiciliari per il GIP angrisano ci sono pericoli di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati andiamo a vedere questa notizia anche sul messaggero eccola qui sesso con la 14enne arrestati altri 4 studenti dopo le carcere per fidanzatini amico e domiciliari minori di Vasso San Salvo e Paglieta coinvolti nelle violenze sulla giovane hanno approfittato di lei come di un oggetto di consumo il giudice Cecilia Angrisano descrive gli stupri sulla ragazza e noi possiamo andare a vedere il servizio sono coinvolti altri 4 minorenni nella brutta storia di violenze sessuali e prevaricazioni vissute per due anni da una sedicenne di Vasto nome di fantasia Antonella i suoi racconti ai carabinieri avevano portato nel giugno scorso alle misure cautelari in carcere per due 17 anni uno dei quali presunto fidanzato della vittima ritenute elementi dello sfruttamento sessuale della ragazza dal supplemento di indagini scaturito dalle analisi dei telefonini sui cui c'erano foto e video in atteggiamenti intimi incrociati con le testimonianze raccolte nel corso degli interrogatori ieri i carabinieri della compagnia di Vasto hanno sottoposto al regime della permanenza in casa per 30 giorni con divieto di comunicare con persone diverse da coabitanti altre 4 persone uno da poco maggiorenne ma all'epoca dei fatti minorenne e 3 17 anni tutti residenti tra i comuni di Vasto San Salvo e Paglieta per loro tutti incensurati e componenti un gruppo di amici le accuse sono pesanti ma meno gravi rispetto ai primi due arrestati a cui è stata contestata anche la riduzione in schiavitù e gli atti persecutori ai 4 infatti viene contestata la violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata dalla minorità la violenza privata e la pornografia minorile i ragazzi ha spiegato il maggiore Consales comandante della compagna di Vasto erano consapevoli della trappola tesa ad Antonella dallo pseudofidanzato e dall'altro suo amico ma non sono stati implicati nella minaccia sotto la quale la ragazza è entrata in un vortice di asservimento psicologico come ha scritto il giudice Cecilia Angrisano nella sua ordinanza di custodia cautelare resasi necessaria per il pericolo di reiterazione del reato e per il possibile inquinamento del quadro probatorio nel corso dei due anni infernali vissuti da Antonella il gruppetto dei quattro avrebbe partecipato a ricorrenti episodi di violenza almeno due o tre volte al mese che sarebbero avvenuti in zone pubbliche disabitate come edifici abbandonati o campi agricoli oppure all'interno del garage di uno degli arrestati a giugno oltre alla minaccia di pubblicazione sui social di video e foto hard alla ragazza sarebbero stati somministrati anche degli stupefacenti uno spinello nel caso accertato dai carabinieri per cercare di disinibirla e spingerla ai rapporti di gruppo le indagini ammesso il maggiore Consales non sono ancora finite perché il gruppo dei carnefici della ragazza potrebbe essere più vasto e perché le analisi dei dispositivi elettronici non sono ancora terminate restiamo sempre in provincia di Chieti nelle pagine appunto del centro muore in casa per la puntura di un'ape vasto tragedia in una villetta di via Lota Giovanni D'Adamo 70 anni è stato il fontaniere del comune di San Salvo e poi fra ineri cerche senza sosta anziano scomparso trovato un oggetto che appartiene ad Antonio Rossi e poi ancora vigilessa rinuncia dopo un mese vasto un altro addio al comando l'assessore i motivi sono personali nel taglio basso sgravi a chi assume un ex Oniwell la tessa accordo regione sindacati confederali per aiutare i lavoratori licenziati sul messaggero nella prima pagina di Chieti un piano da 30 milioni di euro così le strade torneranno sicure iniziativa della provincia stilato un programma biennale di interventi con fondi del masterplan per la manutenzione straordinaria il presidente Pupillo invia lettera ai sindaci i comuni possono collaborare per gli appalti nel taglio basso stalker condannato non si fermò davanti al tumore della ex botte pedinamenti due anni di carcere per un operaio che dovrà risarcire la vittima con 10 mila euro adesso passiamo sulle pagine di Teramo scuole un tesoretto di 40 milioni per le ristrutturazioni lavori in tutti gli istituti superiori in vista della ripresa delle elezioni dovranno invece essere ricostruiti ex novo il liceo artistico e l'Ipsia il presidente della provincia di Sabatino dice abbiamo i fondi per un tranquillo anno di studi e poi teatro romano centrale con Eteam sul tavolo del nuovo coordinamento l'ente territoriale nato dall'accordo dei comitati di quartiere a capo l'ex assessore Domenico Bucciarelli andiamo nella pagina della provincia 15 anni preso attestate dalla baby gang accaduto a Tortoreto dacci soldi così si sono avvicinati il bottino di 3 euro ha scatenato lo stesso gesto fatto da Roberto Spada a Ostia la vittima è un turista romano che passeggiava sul lungomare dopo il colpo il sangue al naso indagano le forze dell'ordine andiamo adesso nelle pagine di Teramo sul quotidiano il centro i mega appalti contestati il rettore gli architetti sbagliano il nostro bando non si cambia università zoo profilattico respingono le accuse sulle gare per l'ex manicomi e l'ex mattatoio di Pasquale questi progetti fanno ripartire l'economia cittadina cerchiamo di essere positivi andiamo adesso nella pagina successiva resort di lusso gli arabi iniziano i lavori a Colonnella ritirato il permesso di costruire l'avvio è previsto in autunno nella pagina successiva ad Atri attesa a martedì la riapertura della cattedrale il rito della porta santa farà tornare i fedeli nel Duomo chiuso da fine agosto 2016 riprendono anche le messe adesso andiamo sulla città per vedere le altre notizie dal Teramano muore tra le braccia della moglie a 32 anni Moreno Esposito impresario funibre di Campi stroncato da un infarto nella sua casa di Tortoreto Lido c'è un fiume da guadare tra Comune e Team per sviluppare l'area di Carapollo non è più rinviabile la realizzazione del ponte previsto da Sperandio ancora periferie anche il PD ha votato contro Teramo segreteria gruppo consigliare urlano contro i giarroverdi ma d'Alfonso e Renzi hanno votato l'emendamento 13.2 proseguiamo commercio fermo ai problemi di sempre primo tavolo tra associazioni assessore Filipponi richieste su ZTL parcheggi bus navette in centro sempre a Teramo parcheggio bonificato e poi chiuso in piazza donatori di sangue spesi 550 mila euro in 8 anni di cantiere per 44 posti mai usati in provincia il consorzio di bonifica mette ordine alla gestione dopo aver trovato la liquidità per garantire i servizi torna in possesso dei territori lungo il tronto la cronaca processo per gli abusi sulla minore disabile violenza sessuale detenzione di materiale pedopornografico immediato per un operaio di Civitella la mobilità Martinsicuro avrà la stazione ferroviaria protocollo d'intesa fra regione Abruzzo e RFI che anticiperà il finanziamento da 2,5 milioni di euro a Giulianova il sindaco prova a metterci una pezza ancora il caso di Hop mai emesso una sentenza sul caso di Hop sono sempre un garantista e ancora parcheggi per disabili impossibili la denuncia di azione politica Roseto per gli stalli stretti e poco funzionali torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere anche le pagine dell'Aquila pallovale sgonfiata rugby bandiera bianca tra rimpianti amarezza la città assiste con sgomento al passaggio di consegne della club all'Unione ghizzoni i debiti del passato hanno pesato non è bastata la gestione oculata e poi nel taglio basso in cubo incendi vietate anche le grigliate sul mona fuoco bandito dopo i roghi devastanti di un anno fa sul morrone multe fino a 500 euro prende a testate la convivente viene arrestato un operaio della Magneti Marelli sospetta un tradimento la compagna perde due denti minacciata anche con un'ascia violenza sulle donne a sul mona e poi agente del carcere trova un insetto nel piatto sul mona divampa la polemica nella struttura di via Lamaccio Nardella della Will chiede chiarimenti prima di passare allo sport andiamo a completare la lettura delle pagine dell'Aquila anche sul messaggero pedonalizzare la zona castello per estendere il centro storico il sindaco possibilista aperti alle idee per ridurre l'utilizzo delle automobili intanto fake news su un atto vandalico ai danni del rinnovato parco del sole la proposta dell'architetto Antonio Di Stefano prevede di interrare la viabilità e poi zona banca d'Italia invasa dagli insetti la protesta dei residenti andiamo avanti con le maggio una tassa per il decoro chi vuole entrare nella basilica in pantaloncini e con le spalle nude deve coprirsi con una lunga stola versando 50 centesimi il rettore Spinelli una soluzione per le persone che entrano dopo aver fatto il ginnastico dopo aver preso l'abbronzatura nel parco nella pagina successiva picchia la ex la minaccia con l'ascia abbiamo già visto le manette scattate per Pietro del Cimuto 52 anni residente ad intro d'acqua operaio della Magneti Marelli per quanto riguarda invece l'acqua Santa Croce Colella patron Santa Croce dice denuncio il sindaco continua questa querelle anche giudiziaria sullo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua già che ci siamo andiamo nell'Abruzzo Sport del messaggero andiamo a vedere anche dunque le pagine sportive sempre più il Pescara di Cocco in apertura una nuova tripletta contro il Real Giuliano l'attaccante che doveva andarsene diventa decisivo il patron congelate le trattative di cessioni davanti abbiamo due elementi da doppia cifra nel frattempo Melegone all'Adriatico per sfondare dice mi manda Gasperini questo è il volto nuovo del Pescara nel taglio basso il Real blocca Fischer dal PSG e Marchionni l'operazione attraverso la mediazione di Peppe Manari attualmente al Lugano andiamo a vedere anche per quanto riguarda il Pescara le pagine del centro Cocco entra e sveglia il Pescara a Giulianova primo tempo Scialbo ripresa con tripletta della punta nel 4 a 0 al Real poi la Serie B clamoroso si fa largo l'ipotesi di un campionato a 19 squadre dunque con il no ai ripescaggi nel taglio basso le squadre giovanili pronte per il nuovo anno tutte al lavoro dalla primavera all'Under 15 nell'Under 16 di Mancini arriva Barbarossa dall'Angolana nella pagina successiva Melegoni si presenta mi manda Gasperini il baby dell'Atalanta Pescara e la piazza ideale per crescere e poi sfuma Nenei il bomber va in Portogallo mercato l'attaccante ha scelto la Morei Renze e Scamacca verso lo Spezia proseguiamo in Serie C le manovre dei Biancorossi scambio Tulli Marcone il Teramo ci pensa il DS Federico sta lavorando per portare in Biancorossi il portiere del Trapani e mandare in Sicilia l'attaccante che non rientra nei piani del club di Campitelli posticipata il 19 di agosto la gara di Coppa Italia contro il Rieti completiamo la lettura delle pagine sportive sul centro Avezzano Pimpante Giampaolo Sorride Biancoverdi Battone il Paterno al Dei Marsi il Capistrello pareggia in casa partita Avezzano Paterno finita 3 a 1 altra amichevole Alba Deatica Santomero invece finita 3 a 0 con doppietta di Diambè e il Santomero va al tappeto andiamo nei dilettanti le trattative Vastese Ridolfi in arrivo di Renzo a Francavilla Serie D Aragonesi a un passo dal centrocampista Voglio venire a Vasto i giallorossi prendono il terzino ex Pescara promozione si muove il Sant'Anna per quanto riguarda invece la palla a nuoto Pescara ha preso il difensore Agostini quarto rinforzo per Malara arriva il 23 ex Savona e Imperia per il podismo notturna di Notaresco ad Adugna sul podio anche Petrei e Bucci il basket di Serie A dopo l'addio dei Neroverdi Alghero al posto dell'Aquila oggi il calendario andiamo a completare anche la lettura delle pagine di sport sul messaggero la Serie C Teramo e Trapani lo scambio è Tulli per Marcone il crack di Gomis spinge il DS Federico a cercare un portiere il nuovo numero uno l'estremo il difensore ha 25 anni ed è cresciuto nel settore giovanile del Siena e poi l'Aquila persi tanti atleti il dolore immenso del tecnico federale Antonio Colella hanno fatto le valigie per andare a giocare fuori regione ora tutta la città deve stare vicino all'Unione questa volta sarà una nuova realtà speriamo positiva per l'Aquila e poi di spalle il basket Sharks in campo tra le amichevoli anche il trofeo Lido delle rose ancora su questa pagina nel taglio basso Iannone cerca il Bissi in Austria ma la spalla è KO e poi Pineto sconfitto a Nereto 1-0 Amaulo ma la manovra c'è andiamo a vedere anche la pagina di sport della città eccola qui il titolo Teramo tra i pali la sicurezza Lewandowski il giovane polacco ancora una volta sembra potersi conquistare un posto partendo da riserva come detto rinviata al 19 la gara con il Rieti per quanto riguarda il mercato asse con il Trapani per lo scambio Tulli Marcone confermato anche dalla città adesso è il tempo di salutarci mattino 6 termina qui io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi ricordo l'appuntamento di domani alle ore 8 con la nostra rassegna stampa oggi invece le tre edizioni del telegiornale alle 14 alle 19 e alle 23 grazie ancora e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti